Via! Io vorrei averti qui, sempre accanto a me, per dirti quanto ti desidero, quanto mi piaci. Alla sera il mio pensiero è rivolto ancora e sempre a te. Allora finalmente mi decido, prendo il telefono e dico Pronto? Pizzeria? Puoi portare a casa mia una Margherita, la mia pizza preferita. Gabriele ora, dopo la poesia dedicata alla donna della mia vita, che è la pizza Margherita, vi farò vedere una piccola esibizione di pizza acrobatica. Ok.. Grazie. Ok?